Ma noi siamo molto prudenti su questo, siamo disponibilissimi, anzi interessati ad approfondire tutti gli elementi di una battaglia comune per ridurre gli sprechi e le perdite, però siamo anche altrettanto consapevoli che queste misure, questi strumenti hanno garantito e garantiscono la qualità degli alimenti, quindi accettiamo la discussione, vogliamo assolutamente approfondire, ma da questo punto di vista, su questo punto specifico siamo prudenti.